Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Garcini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione FIPILI. In A1 in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncobilaccio fino al 28 febbraio. Sempre in A1 domani notte chiusi i tratti tra Roncobilaccio e Pian del Voglio verso Bologna e tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze è stato sospeso l'obbligo di spostare le vetture in occasione della pulizia delle strade. No multe e rimozioni fino al 31 marzo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!